La dinamica qual è stata? Lei ha provato ad aprire la porta? Ho provato ad aprire la porta perché vengo normalmente ogni giorno a mettere a mangiare dei gatti di mio fratello. E ho trovato la porta chiusa, di solito è aperta, rimane aperta. E mi sono imbrattato la mano di sangue. Ho telefonato a mio fratello per comunicare questa cosa e ci eravamo messi d'accordo che domani sarebbe venuto il fabbro per aprire questa porta. Ci siamo domandati come mai questa porta era aperta ma senza risposta. Dopodiché sono andato via, al ritorno per mettere la macchina in garage e mi sono accorto che c'era polizia, televisione e via discorrendo. E poi ha trovato questa scena anche il contatto? Sì, ho trovato questa scena allucinante. A che ora è venuto la prima volta a dare da mangiare i gatti? Sono venuto alle 17.15, proprio precise perché ho visto la partita del Pescale, stavo seguendo. Ma sono rimasto almeno un quarto d'ora qui in attesa anche di sapere qualcosa da mio fratello, se ci fosse stato qualche chiave in giro per aprire. Quando ha provato a forzare la porta da dentro nessun rumore? Nessun rumore da dentro, no, assolutamente. Ma è una cosa inspiegabile che questa porta era chiusa, dall'interno poi ci siamo accorti. Grazie. Grazie. Grazie.